buongiorno e ben ritrovati ad occhio ai giornali è l'edizione di questo martedì 29 ottobre come sempre l'apriamo ricordando il santo del giorno in questo caso si tratta della santa del giorno si onora infatti la beata chiara luce badano ragazza borta nemmeno 19 anni nel 1990 a seguito di un cancro alle ossa la testimonianza resa durante la malattia al centro della causa di beatificazione conclusa si nel 2010 il sole è sorto oggi alle 6 e 38 tramunta alle 17 e 03 lo sguardo ora al meteo come evidenzia la grafica situazione simile a quella che si è registrata nella giornata di ieri con alternanza di cielo sereno e cielo nuvoloso prevalenza comunque di nuvole anche nel corso delle prossime 24 ore venendo invece alle temperature si manterrà su valori stabili e adesso le notizie del giorno cominciando oggi dal resto del carlino è l'episodio avvenuto domenica lungo l'arzilla sversamenti nel torrente arzilla occhi puntati sui frantoi oleari e il titolo del pezzo d'apertura della prima pagina fanese del quotidiano bolognese i carabinieri forestali e i tecnici dell'arpam hanno effettuato i campionamenti e gli accertamenti l'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno notato il colore nerastro delle acque il corso ha mantenuto per chilometri fino a fano la colorazione nerastra non sono state segnalate comunque morie di pesci l'episodio appunto nella mattinata di domenica il corso dell'arzilla all'altezza di santa maria dell'arzilla ma poi proseguendo verso il mare ha assunto una colorazione nerastra anche lì dove fiancheggia la zona industriale di villabetti circostanze all'interno del pezzo e la corriere adriatico che sottolinea come gli accertamenti eseguiti abbiano indotto a ritenere che si sia trattato di uno sversamento consistente una operazione quella appunto condotta dai carabinieri forestali dai tecnici dell'arpam tesa ad individuare le eventuali responsabilità i sospetti si concentrano sui frantoi in zona ne insiste in particolare uno fa notare ancora il resto del carlino che ne approfitta per fare anche il punto sui problemi che affliggono l'arzilla due i principali gli scarichi non depurati due terzi dei residenti dell'alto corso non sono collegati al depuratore e i prelievi di acqua sempre dal resto del carlino altra notizia trattata con ampiezza quella relativa alla moria di imprese l'economia piange perse 309 imprese questo è la titolo fotografia impietosa quella fornita dalla cna sui dati della camera di commercio a soffrire di più proprio il commercio poi le costruzioni e la ristorazione fotografia che viene tradotta in una tabella in cui si dà conto del segno meno che interessa un po tutti i comparti nel 2023 in particolare il saldo negativo è di 117 unità per quello che riguarda commercio all'ingrosso e al dettaglio e auto riparazioni fa spicco anche il meno 45 dell'attività dei delle attività dei servizi e della ristorazione numeri più contenuti per le attività manifatturiere meno 28 e per l'agricoltura la silvicoltura e la pesca meno 21 i dati scattano una fotografia molto cruda ma erano prevedibili basta fare un giro in centro così la presidente della cna fanese lucia pierleoni che fa esplicito riferimento alla moria di negozi in centro storico all'interno dell'articolo si entra nel merito oltre 30 appunto in centro storico affano le vetrine serrate coperte da carta di pacchi o fotografie sbiadite subito dopo il commercio viene indicato come particolarmente critico il momento attraversato dalle costruzioni nell'ultimo anno hanno chiuso ben 46 ditte di lavori specializzati altre 29 di costruzioni di edifici per un totale di 74 imprese sempre dal resto del carlino spazio poi all'attività del centro natatorio nuotiamo la nuova piscina realizzata dalla fondazione carifano con un investimento ingente di oltre 7 milioni di euro non è ancora operativa la sezione riabilitativa si fa dunque oggi il punto riabilitazione in piscina slitta ancora l'avvio nel nuovo impianto di via mattei inaugurato a febbraio la vasca terapica non entrerà in funzione prima del nuovo anno sono cambiate le norme e quanto sostiene il direttore sanitario di fisio clinics il soggetto cui è affidata la sezione piero benelli figura molto nota rileva come sia interesse anche di fisio clinics che per operare all'interno del centro natatorio ha stretto un accordo con i gestori pool 4.0 e fanum fortune nuoto a rallentare le procedure avrebbe contribuito l'entrata in vigore lo scorso anno del nuovo manuale regionale delle autorizzazioni che ha previsto ulteriori adempimenti così appunto segnala lo stesso benelli riguardo allo slittamento dell'apertura della sezione che era prevista inizialmente per settembre in vista dell'entrata in funzione del centro c'è però grande richiesta di lavoro si sono già proposti 50 operatori e lo stesso benelli segnala a questo riguardo come il centro fisioterapico che opererà all'interno del centro natatorio offrirà appunto un'ottima opportunità occupazionale sempre sul resto del carlino all'interno delle pagine fanesi anche il prg c'è posta dalla provincia chieste 13 pagine di integrazioni provincia che appunto ha recapitato al comune di fanum dossier piuttosto cospicuo riguardo alle integrazioni e chiarimenti in merito al prg approvato indirittura d'arrivo dalla giunta seri la maggioranza deciderà se rivedere completamente l'atto mantenerlo per non iniziare tutto da capo solo la messa a fuoco delle richieste avanzate dalla provincia si legge all'interno dell'articolo richiederà un paio di mesi la questione è stata già affrontata nel corso della riunione di maggioranza che era stata programmata in vista del consiglio comunale che è in agenda per domani fa notare ancora il resto del carlino aggiungendo anche come il presidente della provincia paolini abbia già chiarito che le modifiche che la giunta ser filippi intenderà apportare non potranno essere sostanziali sempre dal resto del carlino e per quel che riguarda fano ma non solo la notizia che l'ex sindaco di fano francesco baldarelli è stato nominato al timone dell'olio dop di cartoceto si tratta di un consorzio lui dice al lavoro per rinnovare l'immagine di questa realtà la foto in realtà è errata perché si riferisce a fausto baldarelli mentre all'interno dell'articolo si parla di francesco baldarelli ex sindaco di fano che segnala c'è un problema con la mano d'opera d'altronde la meccanizzazione rovina il paesaggio un lavoro quello alla guida del consorzio da parte di baldarelli che è stato avviato con la ripresa dei contatti istituzionali con il sindaco di cartoceto rossi con quello di carifano ser filippi e anche con il presidente della fondazione carifano gragnola oltre che con il mistero dell'agricoltura e il parlamentare della lega carloni veniamo adesso alla corriere adriatico e alla cronaca con la condanna a tre anni di un pusher che nel frattempo però è sparito si tratta di un giovane albanese di 23 anni arrestato dalla polizia che si è sottratto nel frattempo all'obbligo di firma non ha dato più notizie di sé la condanna è stata pronunciata nella giornata di ieri l'uomo era stato intercettato nel maggio scorso dagli agenti del commissariato di fano aveva indosso 5 grammi di cocaina la perquisizione all'interno della camera d'albergo che occupava e ha fatto emergere altri 60 grammi della sostanza sempre per la cronaca la notizia che con tanto di video ha fatto anche il giro dei social in queste ore l'avvistamento di un cinghiale nella zona della coppa san cristoforo arrivano anche i cinghiali per cercare cibo e questo dopo che le segnalazioni si sono susseguite riguardo alla presenza di lupi lungulato attraversava la strada interquartiere c'è anche un'immagine della cinghiale a spasso per fano venendo invece ad un altro tema di grande attualità quello delle antenne quanto accaduto nell'assemblea che è stata convocata nei giorni scorsi a torraccia antenne 5g siamo preoccupati ma il sindaco ha parlato di altri temi e la denuncia di una delle partecipanti che si fa portavoce del malumore di alcuni dei presenti che avrebbero voluto calamitare l'attenzione proprio sull'impianto 5g che dovrebbe essere insediato in quel quartiere critiche a ser filippi dopo l'assemblea i residenti l'avevamo richiesta per l'elettrosmog e secondo appunto costoro ser filippi avrebbe un po scansato il problema lamentandosi oltretutto per la presenza di altri comitati di altre zone della città che si battono ugualmente contro l'installazione delle antenne nel frattempo facendo il punto sul quadro a bell'occhi l'operatore inuit tira dritto costruendo il nuovo impianto in questo caso era in possesso del titolo autorizzativo e tutte le proposte di siti alternativi del comune due in particolare sono state rigettate quanto invece al carnevale il consuntivo della missione romana del carnevale fanese per la presentazione del docufilm sul carnevale il carnevale le emozioni di un bambino il docufilm alla festa del cinema di roma così riassunto il lancio nazionale di carta pesta firmato dal regista andrea lodovichetti eccellente strumento di marketing commenta il sindaco ser filippi l'opera interpretata da el boulon incarnato da dio tallevi nei panni appunto della maschera che fa in qualche modo da anfitrione all'interno della pellicola che uscirà presto nelle pagine nelle sale fanesi dopo la presentazione in anteprima del trailer alla festa della cinema di roma lodovichetti racconta di un carnevale che all'interno del docufilm non viene celebrato solo come festa ma come stato d'animo che scalda il cuore di una città e di un territorio l'opera è stata realizzata con il contributo alla sceneggiatura di luca caprara e al montaggio di nicola nicoletti adesso ci spostiamo alle pagine regionali del corriere adriatico per fare il punto sulle liste d'attesa il quadro fornito dal 2023 è impietoso ecografie tac impossibili saltate 247 mila prestazioni diagnostica ambulatoriale al palo tra domande non soddisfatte mobilità passiva la regione corre ai ripari studio dei fabbisogni per la corretta programmazione l'obiettivo è definire le attività delle strutture pubbliche e private la tabella ci aiuta ad illustrare più compiutamente la situazione in particolare per quello che riguarda l'azienda sanitaria territoriale 1 l'erogato intraregionale di 382 mila prestazioni la mobilità passiva supera le 39 mila unità le domande non soddisfatte 54 mila 510 sempre dal corriere adriatico e venendo invece al dettaglio delle pagine pesaresi spazio in particolare all'asilo nido di torraccia sono stati bruciati i tempi lavori affidati ad una ditta pesarese l'assessore pozzi soddisfatto il via al cantiere dice nelle prossime settimane nel 2026 liste d'attesa azzerate la previsione dello stesso pozzi uno dei problemi lamentati dalle famiglie pesaresi è proprio quella dell'insufficienza del numero dei posti negli asili nido al momento l'assessora murgia fa eco un'opera da oltre 2 milioni di euro necessaria in un quartiere particolarmente popoloso l'edificio si legge all'interno dell'articolo sarà composto da oltre 635 metri quadri destinati a servizi per bambini altri 159 rivolti ai docenti ancora dalla corriere adriatico anche le i preparativi per il prossimo natale il natale cambia regia la piazza senza casette via la pista di ghiaccio questi punti salienti di una programma che si sta mettendo a punto mercatini nelle strade laterali e pattini ecologici in piazzale marconi manca ancora però il gestore del pacchetto feste la novità è il ruolo attribuito al cte l'assessora frenquellucci rimanda a più avanti per i dettagli annuncia comunque la permanenza della biosfera fino a capodanno con nuovi contenuti emesso da parte del comune un bando per individuare il nuovo organizzatore il 30 novembre l'accensione delle luminari le feste andranno avanti fino al 6 gennaio quanto appunto alle novità elencate nel dettaglio con la nuova location per lo scivolo di ghiaccio appunto nella piazzetta di viale marconi intanto le organizzazioni di categoria invocano uno spazio alle tipicità locali poche cose ma fatte bene chiesto un mutamento di rotta per le festività non c'è solo il centro ma piazza e portici in tutta la città altro elemento sottolineato appunto dalle organizzazioni di categoria all'interno del resto del carlino invece spazio in particolare alla inchiesta sugli affidi facili anche arceci nei guai è accusato di corruzione così appunto il quotidiano bolognese sull'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex capo di gabinetto della sindaco ricci dell'ex sindaco di pesaro ricci da testimone ad indagato la procura contesta ad arceci di aver avuto un ruolo nell'assegnazione di fondi da parte del comune e nel pagamento diretto delle sponsorizzazioni a favore di opere a maestra invece il dirigente Eros Giraldi a sua volta indagata deve rispondere di falso in particolare nel mirino degli inquirenti tre erogazioni i 20.000 euro della sponsorizzazione fantasma non reddicontata per il casco di Valentino Rossi i 20.000 euro per i lavori idraulici in Viananter che in realtà sono serviti per il murales dedicato a Liliana Segre i 30.000 pagati per il paglio dei braceri e per il festival della pizza Rossini nel 2022 il commento dello stesso arceci sorpreso ma sereno mi sono comportato correttamente questa la stringata dichiarazione che ha reso una volta notificato appunto il provvedimento arceci ex capo di gabinetto del sindaco Ricci in pensione dal 2021 continua a rivestire un incarico esterno che ogni mattina lo vede impegnato nella stanza che riporta il suo nome scritto nella targhetta esterna ricorda ancora il resto del Carlino che poi dà conto di un'altra vicenda in questo caso riguarda Urbino licenziato il ricercatore assenteista condotta gravemente inadempiente per 21 anni non l'hanno vista arrivare è una vicenda che era stata portata alla ribalta proprio dal quotidiano bolognese nei mesi scorsi era emersa appunto la vicenda di un ricercatore un 62enne di Monte Copiolo Luciano Lattanzi si legge all'interno dell'articolo che per due decenni abbondanti non si era fatto vedere in università la decisione ora di licenziarlo è stata assunta nei giorni scorsi nella riunione del collegio di disciplina dell'università di Urbino resta però al ricercatore il diritto alla pensione anche agli assegni e nessuno fa notare il resto del Carlino gli ha chiesto indietro gli stipendi del periodo stipendi che appunto mensilmente ammontavano a circa 2.500-3.000 euro nella revisione fatta in questi mesi dal rettore Calcagnini è emerso come anche una decina di altri ricercatori con contratti di vecchio stampo in tutti questi anni si siano visti poco all'università La cronaca giudiziaria ci porta invece alla vicenda di un bimbo conteso da due famiglie l'appello dei genitori affidatari aiutateci a tenerlo con noi i due hanno lanciato una petizione online per la raccolta di firme già 3.000 chiamata raccolta all'intera città l'avvocato Bavai che ne tutela gli interessi sottolinea un caso emblematico che fa emergere i limiti di una legge ormai datata il bambino oggi ha due anni e nove mesi dall'età di sette mesi è appunto affidato alla coppia di genitori individuata dal tribunale ma ora la mamma naturale lo rivuole con sé in questo senso c'è anche un pronunciamento quel piccolo una mamma ce l'ha già fa notare appunto l'avvocato Ciani che tutela invece gli interessi del nucleo d'origine c'è un provvedimento della magistratura che va eseguito fa rilevare il legale ancora dal resto della Carlino e per la cronaca giudiziaria anche la condanna a sei mesi di una badante che è stata ritenuta colpevole di aver spillato 59.000 euro al suo assistito per l'accusa la donna prelevava i soldi avrebbe indotto l'anziano anche a scrivere un testamento ma l'accusa di circonvenzione di incapace è caduta in dibattimento e dunque il testamento con il quale appunto è stato disposto dall'anziano nel frattempo deceduto che l'appartamento di sua proprietà venisse appunto assegnato alla badante è stato ritenuto valido contro la regolarità di quel testamento si era schierata in particolare una nipote dell'uomo ancora sul resto del Carlino in evidenza lo stato in cui versa il San Benedetto negli ultimi giorni la caduta di Coppi prende posizione formalmente il sindaco Biancani il San Benedetto cade a pezzi ma dalla regione nessuno ancora è venuto a controllare lamenta lo stesso Biancani altro tema che interessa in particolare gli utenti è quello del rincaro che si annuncia per le bollette dell'acqua subito rincari tra l'8 e il 10% l'assemblea dei sindaci ha infatti deciso di ritoccare le bollette su richieste di marche multiservizi e ASET la giustificazione adotta dietro il rincaro è quella relativa agli investimenti cui le due partecipate saranno chiamate in tema invece di viabilità quello che succede in strada dei colli a Pesaro i residenti lamentano di essere in pericolo le querce stanno cadendo come birilli e l'avvocatessa Benelli che abita in zona a perorare la causa non si fa manutenzione come si deve si dovrebbero alleggerire le chiome invece non si toccano per puro miracolo non ci sono stati feriti lo sguardo ora alle pagine dedicate all'entroterra e agli interventi antiallagamenti a Mondolfo i lavori in primavera annuncia il sindaco Barbieri in particolare per quello che riguarda Marotta siamo i primi ad intervenire concretamente per risolvere il problema l'intervento intesserà in particolare la zona di via Corfu e via Chienti a San Lorenzo in campo invece nuova rete idrica a Mirabello l'intervento di marche multiservizi per risolvere i problemi di scarsa pressione dei rubinetti sempre sul resto del carrino anche l'intervista al sindaco Gambini sul turismo stop al turismo Morbi e Fuggi raccomanda Gambini che prevede più posti letto per il futuro il centro storico deve poter accogliere tutti non solo gli studenti sulla fornace abbiamo un bel progetto quanto invece agli eventi in primo piano la fiera del tartufo di Acqualagna una partenza boom folla per i primi giorni della fiera nonostante i prezzi il presidente della regione Acquaroli in coro con il sindaco Grassi bisogna puntare in alto venendo invece al Corriere Adriatico sempre dalle pagine dedicate al territorio il nuovo appello lanciato dalla mamma di Riccardo il 19enne di Acqualagna scomparso ormai da più di due settimane svuotate la diga del Furlo ci sono tre grotte inesplorate fa notare Federica Pambianchi i soccorritori hanno spiegato che in alcuni tratti scusate in alcuni anfratti sott'acqua le correnti risucchiano per questo sarebbe necessario appunto svuotare la diga per consentire ai soccorritori di perlustrare anche quei punti infine da San Costanzo la polemica sui servizi sociali tra la giunta attualmente in carica e quella precedente l'ex assessora ai servizi sociali Volpe rigetta le accuse la delibera assunta riguardo all'impiego degli assistenti sociali è corretta l'attuale sindaco Carbone aveva accusato l'ex assessora di aver approvato il taglio degli assistenti sociali nel contesto dell'attività dell'ambito e siamo così al termine di questo appuntamento con occhio ai giornali come sempre grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata